Nel 2018, in occasione del novantesimo anniversario della spedizione polare del dirigibile Italia di Umberto Nobile, Paola Catapano, giornalista scientifica del CNR, raggiunse in barca a vela la banchisa polare con la spedizione scientifica da lei ideata, Polar Quest 2018. Oggi guardiamo un videotrailer tratto dal suo documentario televisivo Nanook ci porta in quegli habitat straordinari. Per la sua natura, siamo la nostra migliore opportunità e il nostro pezzi pezzi. La nostra tentazione a scegliere all'Islande di Svalbard vuole dimostrare la fronte humana di un pianeta pollutato e tornato. Questa è, al stesso tempo, il simbolo della spedizione dell'Archipelago della spedizione e anche il simbolo di ciò che facciamo per questa bellezza. Buon plastica! La ocean arctica porta il passato e il presento con l'Italia. Ci troviamo tracere del passato, ricordando dati del passato constantly cambiato. Ci troviamo qualcosa di blu e cercare di rispondere al futuro. L'Anthropocene è vicino a un punto di non ritorno. Dobbiamo imparare a ascoltare, dobbiamo agire, dobbiamo agire, o il nostro futuro si può perdere. Se dovessi compiere un'altra impresa, mi piacerebbe andare fuori dall'atmosfera terrestre, negli spazi, verso la Luna, verso Venere. Umberto Nobile. A presto! 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 A presto!